Condanniamo fortemente l'attacco iraniano in Iraq. La violenza non è mai stata una soluzione. Serve subito un cessate il fuoco e far ragionare i reparti. Pensiamo piuttosto a proteggere i nostri militari che ogni giorno contribuiscono in quelle zone alla lotta contro l'ISIS. Siamo preoccupati per quello che sta avvenendo in queste ore in Medio Oriente. Le armi vanno al più presto fermate e l'iniziativa deve tornare alle diplomazie. Il nostro Paese è vicino ai militari impegnati nelle missioni internazionali per la pace e la stabilizzazione di quelle aree. La mancanza di autorevolezza del nostro Governo continua ad andare avanti dall'inizio di questa crisi. Non è sufficiente esprimere un invito alla moderazione. I nostri soldati e la situazione internazionale imporrebbe un Governo serio e autorevole che prenda un'iniziativa per dirimere il conflitto in corso. Innanzitutto la pace e il disarmo perché il pianeta non può essere ostaggio della follia di alcuni grandi potenti del mondo come Trump. Il disarmo deve essere la via. 1.800 miliardi di dollari sono stati spesi in un anno e la ragione di questo conflitto è sempre una sola cosa, il petrolio. Ecco perché è importante una politica energetica che ci liberi dai fossili perché così ci libereremo anche dalle guerre.